Sono mamma di tre bambini e quando ho avuto il mio primo bimbo e ho iniziato ad utilizzare i pannolini usa e getta mi sono resa conto di quante montagne di rifiuti fossi in grado di creare con un solo bambino e così mi sono avvicinata alla tematica del mondo ecologico. Anch'io come te che sei qui a guardare questo corso oggi mi sono ritrovata davanti a questa montagna di informazioni contrastanti e così il tentativo dopo tentativo, errore dopo errore un'informazione di qua e un'informazione di là mi sono accorta di essere arrivata a diventare una vera esperta e così mi sono detta perché non mettere a disposizione di altri queste mie conoscenze per permettere ad altre famiglie di avvicinarsi a questo bellissimo mondo colorato quindi in questo corso andremo a sdipanare tutti questi dubbi, andremo a parlare di quelle che sono tutte le tipologie di pannolini lavabili, andremo a parlare di lavaggio, di gestione, quanti pannolini servono, davvero ce la posso fare, davvero sono matta a pensare di voler utilizzare i pannolini lavabili e quindi andremo a rispondere a tutte queste domande. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!